Dall'inizio dell'anno, ma soprattutto negli ultimi mesi, sono state condotte diverse operazioni dal Comando Provinciale di Foggia. Ora, tutte queste operazioni chiaramente verranno messe a sistema. Dobbiamo capire se sono casi isolati, come crediamo, probabilmente sono singoli episodi. Ma non dobbiamo mai sottovalutare il problema, quindi vedremo se poi dietro c'è qualcosa di più grande che vada a gestire i vari reati. Questo è un grosso aspetto dell'economia del tavoliere, quindi è chiaro che bisogna evitare che, come sempre, dove c'è maggior circolo di soldi, si vada a inserire la criminalità. Però è chiaro che questo va non solo a danneggiare i lavoratori che vengono sfruttati, ma in una maniera veramente molto vile, ma tra l'altro vanno a creare un danno all'economia, all'economia di quei proprietari di fondi onesti che mettono in regola gli altri lavoratori. Ecco perché è importante anche la segnalazione da parte loro di eventuali irregolarità, in modo che noi possiamo intervenire, come abbiamo fatto in questi casi.